Tavolo tecnico in prefettura per la gestione dell'inquinamento atmosferico nell'agro nocerino sarnese e l'organizzazione di misure per abbattere le polveri sottili nell'atmosfera all'indomani dell'ordinanza emanata dal comune di Nocere Inferiore. Questa mattina vertici tra i comandanti di polizia locale del comprensorio e alcuni dirigenti coordinati dai funzionari del palazzo di governo di Salerno. Per Nocere Inferiore è presente nel capoluogo il capo dei caschi bianchi Giuseppe Contaldi che ha portato e presentato le stanze e le urgenze della città. L'esito del vertice dovrebbe dare la linea per l'adozione di futuri provvedimenti che tengano conto del fenomeno inquinamento a livello comprensoriale. Il faccia a faccia di oggi è stato preceduto ieri pomeriggio da un incontro preparatorio che ha visto di fronte il sindaco Maglio Torquato e il prefetto Francesco Russo. Per la prefettura è necessario anche stemperare i toni tra le varie amministrazioni, in particolare dopo le scintille tra Nocere Inferiore e Angri. Il prefetto avrebbe programmato per domenica mattina al termine delle celebrazioni del 2 giugno per la festa della Repubblica un caffè con le fasce tricolori dell'agro. Intanto le targhe alterne restano ancora sospese, dovrebbero entrare in vigore non appena il tempo si aggiusterà, sicuramente non prima della prossima settimana. È attivo invece il divieto di uscita dei camion al casello Nocerino della 3 Napoli-Salerno dalle 8 alle 20, dal lunedì alla domenica, mentre da domani pomeriggio al via l'ampliamento della ZTL in centro.